ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere insieme questo talking direttamente dalla bella e la bestia questo è un'esclusiva del parco giochi disney lampari ma si può trovare anche sul sito disney ogni tanto dovete tenere guardato però perché non è sempre presente innanzitutto vi voglio far vedere l'altezza perché è veramente veramente grande siamo sui 25 cm questo qui è praticamente una replica quindi è fatto proprio dalla disney a somiglianza di quello del film direi di andare subito a vederlo partendo dai dettagli che sono una cosa eccezionale guardate qui l'effetto legno che è davvero pazzesco sembra davvero legno dal vivo e anche tutti i dettagli guardate qui il volto uguale a quello del film tra l'altro le lancette si muovono visto che è un vero orologio il pendolo all'interno che funziona davvero abbiamo poi come potete vedere qui le braccia come si potrebbe dire del nostro talking anche di qui sul retro continuano tutti i dettagli di questo finto legno poi qui abbiamo le gambe qui sotto c'è una simile stoffa per non rovinare il ripiano su cui viene appoggiato e adesso vi faccio vedere altri dettagli davvero pazzeschi per esempio spostiamoci un attimo si può aprire veramente qui davanti come succedeva nel film e infatti questo pezzo di pendolo è rimovibile e qui sul retro è invece possibile rimuovere questa parte che è calamitata in modo da poter inserire la batteria e far funzionare il tutto come un vero orologio come si può vedere qui c'è un meccanismo di un orologio normalissimo e quindi possiamo utilizzarlo proprio per quello scopo anche se se onestamente secondo me sta bene anche se non volete utilizzarlo come orologio ma come replica semplicemente perché fatto davvero in modo eccezionale i dettagli sono pazzeschi come vi ho fatto vedere anche abbastanza grande e poi guardate è identico è proprio lui uscito pari pari dal film la bella e la bestia quindi non c'è molto altro da vedere fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo tokens arriverà sicuramente a breve anche la recensione di lumiere spero che questo video vi sia piaciuto alla prossima e ciao a tutti